All'interno della corrente illuminista l'intellettuale ha un ruolo centrale, a lui viene affidato il compito di diffondere tra gli altri uomini di cultura, ma anche all'interno di quella nuova entità che si chiamerà l'opinione pubblica, le idee a cui gli illuministi hanno dato forma. Quindi l'intellettuale illuminista ha questo ruolo importantissimo, che non è soltanto di tipo culturale la diffusione delle idee, ma che diventa anche importante dal punto di vista politico, cioè nel senso più originario del termine, la cosa pubblica, la diffusione cioè tra i cittadini all'interno della polis, quindi della città, dei pensieri, delle istanze illuministe stesse. In questo modo l'intellettuale ha un ruolo importante nel progresso di una nazione stessa. Gli intellettuali si confrontano all'interno delle accademie, all'interno dei salotti e danno vita a quel pensiero condiviso che in qualche modo viene destinato a quel pubblico indefinito, formato da uomini interessati alla conoscenza, tra i quali le idee circolano adesso in maniera libera, con una libertà anche di discutere, di confrontarsi, di esprimere le proprie posizioni. Quindi sostanzialmente si sviluppa una società che possiamo già definire borghese, cioè di persone che abitano il borgo, che abitano la città, e che all'interno della città cominciano ad assumere un ruolo nuovo occupando spazi che fino ad allora erano stati riservati quasi esclusivamente agli aristocratici, e agli uomini del clero che nella società precedente avevano sicuramente il ruolo che adesso loro stessi possono occupare. La letteratura ha tra gli intellettuali uno degli spazi privilegiati e diversi sono gli strumenti letterari attraverso i quali gli illuministi possono diffondere le loro idee. Cioè abbiamo la Francia e l'Italia come luoghi in cui questo sapere culturale, sapere illuminista, si diffonde di più. Nasce il romanzo di tipo filosofico, cioè quel piccolo libricino all'interno del quale i filosofi scrivono e sviluppano le proprie idee. Nasce anche il pamflet, un librettino piccolo scritto per potere anche in polemica all'altrui pensiero esprimere la propria posizione. Ma si sviluppa grazie anche alla diffusione ormai della stampa. In E500 la stampa viene inventata e tutto il 600 a modo di svilupparsi adesso dà forma attraverso una stampa più veloce e immediata agli articoli che compongono la rivista letteraria nella quale i letterati si confrontano. E poi il saggio, il saggio storico nel quale i filosofi, gli storici, i letterati possono esprimere in maniera più composta le loro idee. Anche se in misura minore si diffonde anche lo strumento del teatro, che vedrà in alcuni rappresentanti illustri il nostro Carlo Goldoni in primis, vedrà uno sviluppo significativo, notevole e molto interessante per il recupero di una tradizione che durante il 500, durante l'età precedente, aveva visto la commedia dell'arte come il centro dell'azione teatrale e adesso invece viene recuperata all'interno del teatro vero e proprio, del luogo teatro vero e proprio. Si diffondono le prime idee, sicuramente lo abbiamo accennato diverse volte, di De Roe e d'Alembert, sono i filosofi francesi che a partire dalla metà del Settecento danno vita ad un progetto molto importante, quello cioè dell'encipropedia. Di cosa si trattava? Si trattava di mettere in forma scritta, stampata e divisa in volumi il sapere che fino ad allora in diversi ambiti, compreso quello tecnologico, quello tecnico, l'uomo aveva sviluppato. Tutti gli ambiti, anche quelli che erano considerati secondari, quelli cioè che non avevano avuto diffusione, adesso vengono equiparati per la loro importanza al saper umano e proprio per questo motivo hanno diritto di cittadinanza all'interno dell'encipropedia. Un progetto importantissimo perché significa dare sistematicità al pensiero umano, sviluppare la diversità delle tradizioni, delle conoscenze, è un progetto enorme che sicuramente aveva bisogno di soldi, aveva bisogno di persone che lo buttassero avanti ma soprattutto di energia contro quelle posizioni ecclesiali che più di una volta tentarono di fermare il progetto stesso attraverso interventi di censura. Ma nonostante questo fermare un fiume in piena è veramente impossibile e quindi nonostante alcuni blocchi anche temporali che purtroppo furono così vissuti come un freno enorme per gli illuministi francesi. In un modo o in un altro poi l'enciclopedia prenderà forma e metterà insieme anche attraverso delle esemplificazioni descrittive come le mappe o le tavole illustrate il sapere anche tecnico e scientifico che nel secolo precedente si era sviluppato. Dal punto di vista del pensiero economico si sviluppa la fisiocrazia, una dottrina filosofica economica secondo cui le due principali aree di investimento economico e di sviluppo della società sono l'agricoltura e l'allevamento. Queste vengono considerate primarie rispetto invece al commercio che viene vissuto come la seconda fase della trasformazione dei beni prodotti proprio dall'agricoltura e dall'allevamento. Centrale il pensiero di Adam Smith che è alla base del pensiero economico liberale, del liberismo secondo cui occorreva per la diffusione delle merci e per lo scambio delle merci un mercato libero non dominato cioè dallo Stato da cui il mercato libero doveva prendere le distanze. Il mercato secondo le teorie liberiste che chiaramente sono a fondamento anche dell'economia liberale moderne, il mercato ha la capacità di regolarsi da solo attraverso un rapporto sempre diverso tra i produttori e i consumatori. Dall'altra parte si sviluppa anche il pensiero giuridico e Cesare Beccaria, il milanese Cesare Beccaria, sarà uno degli esponenti principali di questo pensiero. Scrive un'opera importantissima dei delitti e delle pene all'interno della quale combatte la pena di morte e la tortura ritenendole inutili, dimostrando quasi scientificamente non solo che esse sono disumane prima di tutto ma che soprattutto sono inutili perché laddove esistono le forme di tortura e di addirittura la pena di morte i delitti non sono diminuiti, non cambiano. Questo è un argomento che oggi per noi è chiaramente facilmente accettabile ed è anche uno degli argomenti a sostegno della condanna alla pena di morte esistente purtroppo ancora oggi in tanti paesi europei, ma soprattutto è importante sottolineare la modernità del Settecento di questo tipo di pensiero. Modernità è importante perché è proprio un pensiero fatto di riflessioni e di osservazioni che porta Beccaria a far comprendere che una pena ingiusta all'interno del carcere è una pena estrema come la pena di morte non serve a nulla per poter rieducare i rei, ma soprattutto è ingiusta. Nessuno Stato, nessun uomo può prendersi il diritto di uccidere un altro uomo. A queste posizioni illuministe i sovrani rispondono con favore, sono cioè quelli che rientrano nella sfera dei sovrani cosiddetti illuminati proprio nel senso che anche essi riconoscono l'importanza delle idee che i filosofi hanno cominciato a sviluppare e a condividere, quindi si rendono disponibili a realizzare praticamente le riforme che sono state ideate, pensate dagli intellettuali illuministi e così questi intellettuali iniziano a collaborare con i sovrani che riescono a mettere in pratica quanto essi stessi hanno pensato. Così succede per esempio in Austria con l'imperatrice Maria Teresa d'Asburgo che appunto è disponibile a riorganizzare l'amministrazione imperiale e a riformare i privilegi di quelle due fasce sociali dell'aristocrazia del clero e lo stesso succede in Prussia dove viene estesa l'obbligatorietà dell'istruzione elementare ma anche in Italia dove nel Gran Ducato di Toscana governano Jasburgo che aboliscono con la riforma del codice penale la tortura e la pena di morte. Nelle altre nazioni europee le cose vanno diversamente. La Russia ha un periodo felice con lo zar Pietro I e la zarina Caterina II ma rimaneva da un punto di vista economico un paese arretrato e ancora basato sul punto di vista agricolo sul feudalesimo. Nelle nazioni europee come la Francia e la Spagna e nel sud Italia il Regno di Napoli invece le cose rimassero come erano prima cioè non vennero attuate le riforme e nobiltà e clero continuarono ad avere i privilegi che precedentemente all'illuminismo avevano. Uno dei pensatori politici più importante è Montesquieu il quale elabora la dottrina della divisione delle tre forme di governo possibili. La Repubblica da una parte la monarchia è il dispotismo. Queste sono le tre forme possibili di potere che un popolo può darsi ma contemporaneamente la monarchia viene individuata come la migliore forma di governo e in particolare la monarchia costituzionale come già era stata fatta, sviluppata in Inghilterra. Questa monarchia costituzionale secondo il pensiero filosofico di Montesquieu prevede la divisione dei poteri nei tre grandi assi del potere legislativo che ha affidato al Parlamento, quell'esecutivo che ha il potere di eseguire le leggi pensate dal Parlamento, ossia il potere esecutivo e il governo e dall'altra parte la magistratura a cui è affidato il potere giudiziario. Alla base di tutto questo la Costituzione è lo strumento attraverso il quale nessuno di questi poteri può avere il sopravvento sull'altro ma essi stessi sono bilanciati e si controllano reciprocamente. Altro pensatore importante, Rousseau, che sviluppa all'interno della sua opera il contratto sociale, è una nuova idea di società fondata su un patto, il patto sociale, per cui ogni individuo mantiene all'interno del corpo sociale, della comunità dei cittadini, i propri diritti. Ma il bene comune, il bene generale viene gestito proprio da questo corpo sociale che con una forma di associazione, cioè di reciproco sostegno mantiene in mano il bene comune o il bene generale. Così il portere rimane nelle mani del popolo, il quale lo esercita direttamente e non dando, delegando la sua rappresentanza a qualcun altro. Quindi nasce il concetto di democrazia diretta, il popolo che direttamente governa se stesso.